Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con Le Meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì 23 marzo avremo stabilità su tutta Italia grazie al rinforzo dell'anticiclone su gran parte dell'Europa centro meridionale. I cieli saranno di fatti sereni quasi ovunque, solo in Sicilia e in Calabria, qualche innocuo addensamento pomeridiano, le temperature saliranno nettamente nelle massime da nord a sud. In Abruzzo si prospetta un mercoledì stabile, soleggiato ovunque dal sapore a tratti primaverile massime in aumento, fino a 14, localmente 15 gradi tra Pescara e Chieti, ma clima gradevole anche nelle aree interne e in montagna. Le minime rimangono abbastanza basse, quindi ancora pienamente invernali, valori tra il meno 1 e i 6 gradi. Ventilazione molto debole disposta da est e nord est. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.